Un saluto a tutti gli amici di Milanello, parliamo di calciomercato visto che venerdì ci sono le chiusure di ogni trattativa in un senso o nell'altro Per parlare di mercato in entrata bisogna partire però dalle uscite per prima e quindi dal discorso Suso che è quello più caldo C'è un discorso molto ben avviato con il Sevilla e sembra davvero la volta buona perché Suso lascia il Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto subordinato però a determinati parametri come le presenze e alcuni traguardi sportivi Il Milan non lo vuole dare via in prestito secco e quindi questa può essere la formula vincente con un prezzo finale di intorno ai 20 milioni di euro con forse qualche bonus Su Piontek da registrare un interessamento del Tottenham, un ritorno del Tottenham ma siamo ancora in una fase piuttosto primordiale Mentre diciamo che su Paquetà non c'è solo il PSG ma ci risulta anche un club della Premier League In entrata se parte Rodríguez, non si è ancora sbloccato il discorso con il Fenerbahce In arrivo Robinson dal Wigan, 12 milioni di euro Mentre per il centrocampo l'obiettivo è il giovane ventenne portoghese del Benfica Florentino Formula, ovviamente la richiesta del Milan è quella di 18 mesi con in prestito e un diritto di riscatto Ci sono buone possibilità che l'affare vada in porto, è un prospetto molto interessante da affiancare a Benna Sera Ciao